Ehi ragazzi, ciao a tutti, ben tornati qua su Farming Simulator 19 nella pappa New Woodshire Ragazzi, allora, questa è la prima volta che lavoriamo il terreno 22 per nostro conto Perché adesso il terreno è mio, e quindi, bello no? Abbiamo un mucchio di orzo qui in questo terreno Allora, diamo un'occhiata a quello che serve adesso a questo terreno In pratica niente, bisogna solo lavorarlo Mentre i terreni 16, 1 e 2, sono già seminati Ok Allora ragazzi, ho ascoltato un vostro suggerimento Veramente, mi avete fatto una testa così Nick, per favore, metti il Landini Landini, Landini E Nick ha messo il Landini Allora, dove sta sto Landini? Eccolo qua, Landini Legends Legend, non lo so dire Leggenda La leggenda, il Landini Costa 110.000 euro ed è potenziabile E' potenziabile questo mezzo fino a 180 cavalli, credo E costa 125.000 euro Quindi penso che oggi, ragazzi, ci facciamo un bel trattore Oltretutto, penso che anche questo può montare perfetto E pneumatici stretti, il che mi torna comodo Peso davanti, ah, ok, purtroppo non può portare nulla davanti Ci metterò il peso grosso Aggancio frontale Insomma, oggi compriamo sto mezzo 127.000 euro circa Facciamo una bella cosa Dai, per ora mi faccio il prestito per comprare sto trattore Così almeno lo uso, ovviamente 130.000 euro 130.000 euro Tanti soldi poi, come sapete, li facciamo Quindi, Landini Peso da 800 Motore da 180 cavalli Aggancio frontale Ruote standard Compra, compra Eccolo qua, Landini Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo in Landini Utilizziamo in Landini per Per, come dire Perché non mi viene la parola Per accogliere la paia Per la paia Però quasi quasi il vecchio Fiat lo vendiamo, raga Perché c'è troppe ore di utilizzo Ha veramente troppe ore il Fiat E almeno recuperiamo qualcosa Anche perché i soldi qua scarseggiano di brutto Allora, mo' non so di preciso cosa ho seminato Negli altri terreni Devo dare un'occhiata Non so se voglio seminare dappertutto La stessa identica cosa Comunque sia Ok Ci teniamo 500 euro da parte Vediamo un po' che cosa ho messo negli altri terreni Che cacchio è? Avena Mi conviene mettere avena pure sul 22 Direi che tecnicamente è un bel no Tecnicamente non mi conviene Però Ci mettiamo semi di soia, taglie Magari per quanto riguarda il cotone Prossimamente Con i prossimi soldi devo assolutamente comprare una raccoglie di cotone Ma al momento che i soldi scasseggiano Per ora mettiamo semi di soia magari Allora, terreno 22 Se ci posso mandare l'operaio è meglio Così io comincio a prendere sto landini Terreno, terreno, terreno Campo 22 Campo 22 Ok Quindi mo' ci mandiamo l'operaio sul campo 22 E noi intanto ci occupiamo di qualcos'altro Ce la fa? Diciamo che ce la fa Va bene Allora ecco qua il trattore che vorrei vendere Perché ragazzi c'ha ormai troppe ore di utilizzo Per intanto eccoci qua Guardate che carino è il nostro nuovissimo landini Guardate quanto è bello Magari mo' ve lo faccio un po' vedere Che ve ne pare raga? Ah a proposito Qualcuno dirà Nicchia ma dove hai preso questo trattore? Ovviamente questo trattore ragazzi è una mod E lo trovate direttamente nel mod hub Cioè lo trovate direttamente nella sezione mod del gioco Quindi in pratica Questo trattore qui dovreste trovarlo anche su PS4 e Xbox One Teoricamente dovreste trovarlo E' un trattore insomma che si trova facilmente Allora dobbiamo quindi vendere il vecchio Fiat Che almeno tolgo qualcosa di troppo vecchio Oltretutto non solo è vecchio è pure lento Quindi ne approfitto Ormai ha fatto il suo dovere Allora andiamo qua Ripara ripara Vendi Per 16.000 euro Buono 16.000 euro Restituiamo un po' di debito 15.000 euro di debito restituito Cioè abbiamo ancora 40.000 euro di debito Ovviamente vendendo l'orzo Poi recuperiamo pure quelli Per intanto ragazzi Dobbiamo andare quindi nella nostra seconda farm A prendere il cassone da carico Se non ricordo male si chiama così no? Dunque devo riattivare il traffico Perché non vedere il traffico in giro E' un po' brutto Guardate quanto è bello quindi il nostro piccolo Landini Piccolo vabbè 180 cavalli Buttali via Sempre più potente comunque del Fiat No perché il Fiat era da 150 Se non ricordo male Ah già vero Potevo Eh sì Potevo metterci il digestato Ma ormai Lasciamo perdere Perché non c'ho proprio voglia Di fare avanti e indietro Centinaia di volte Per andare a prendere il digestato Fa niente Ci mettiamo un po' di fertilizzante In via E si comincia quindi raga Con la raccolta della paia di nuovo Ah c'è da dire che Ecco di fatti Ovviamente Ho dimenticato che in realtà Dovevo riprendere da qua sotto E non da là Vabbè Fa niente Iniziamo quindi raga Con la paia Ma pure che perdiamo un po' di paia Non ci fa granché Dai Non importa Certo che Beh più ne pigliamo meglio è ovviamente Più paia prendiamo meglio è Questo è vero Allora sta striscia è andata Vorrei recuperare quest'altra Ma pare un peccato a buttarlo Ovviamente Forza Landini Forza che sei una leggenda Trattore italiano ragazzi Trattore italiano Landini è italiano Raga dai Eh mi sa che però in salita Sta leggenda fa un po' fatica eh Quasi quasi riprendo dall'alto va Che in discesa se la cava meglio Ma perché il cassone è spento Perché se no in salita fa fatica Decisamente Già fa fatica col cassone qua spento Mi sa tanto che sto trattore Non è granché adatto Non per questo terreno Che c'ha sta brutta salita Mi devo dare una mossa Prima che è quello Mi fa la festa E me la fa di sicuro Eh sto trattore È buono Ma non tanto per questo lavoro Certo in discesa va benissimo Ma in salita no In discesa ancora ancora Va bene È in salita che non va bene Ho la sensazione che una striscia La perdiamo Ho proprio questa brutta sensazione Speriamo di no Ma ho questa sensazione Che perdiamo una striscia Il rischio c'è tutto Oh ma quello Ah quello C'è il serbatoio Già pieno Sti cacchi Mi cancella la striscia Credo di no Spero tanto di no Allora Eh Retromarcia Ok no La striscia non me la cancella Allora Andiamo a scaricare un'altra volta La trebbia Mi serve proprio qualcosa di più potente Per sta salita Perché quel Landini lì È un po' Deboluccio in salita Allora Scarica Ok E niente Sto Landini Mo qua Fa fatica Sto Landini in salita No No Non ci siamo Ragà No Non ci siamo Mi sa tanto Ragà Che sto Landini Andrà bene Per qualche altro scopo Ma per quanto riguarda Qui il fertilizzante E per Cioè Per la paglia Voglio dire No Non va proprio bene Mi sa che l'ideale Ragà Io Usare sto trattore Che c'ha tanti cavalli Che purtroppo E landini 180 E non gli bastano Allora Andiamo Retromarcia Allora direi che Quell'orzo Possiamo anche venderlo No Ovviamente Vai Allora Orzo 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 L'orzo C'ha il simbolo Ok Questo qui E l'orzo Ranch Allora Selezioniamo il ranch E mandiamolo a vendere Deliver Ranch Ok Il trattore Va a vendere La ranch Speriamo di guadagnare Tanti bei soldini Intanto Riprendiamo Con la paglia Nel modo più assoluto A me lo sto trattore Dovrebbe farcela Ovvio no Questo c'ha 500 e passacavalli Che diamine fa Quello ovviamente Si è già incasinato Deve ancora partire Già è tutto incasinato Quel cacchio De camion Ai 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 Operaio 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 Allora da che parte Devi andare Operaio Forza Ah finalmente Vabbè Quindi Dove ero rimasto Qua Riprendiamo quindi Con la paglia Dai Certo peccato Quindi che con I landini Non ce l'abbiamo Fatta qua Però i landini Andranno bene Per tanti altri utilizzi Per gli utilizzi Probabilmente più leggeri Per sarchiare Fertilizzare Per lavoretti Un po' più leggeri Andranno più che bene Per il trasporto Per la vendita Per un po' di cose Andranno bene I landini Allora Gira 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 Quindi questo qua Va mandato In farm A vendere Eh sì Ormai Il landini Non mi conviene Utilizzarlo qua Non c'ha abbastanza Forza Dunque Lo devo mandare In farm Ancora un po' Ancora un po' Ancora un po' Ancora Eccolo là Ma che fa Quello Sto tornando Indietro Dai Ok Questo va in farm Perché è lì Che dobbiamo vendere I landini Ragazzi Direi proprio Che Non può Fa' gran Che è qua I landini Qua purtroppo Non ha grosse Possibilità Ma quello Si è bloccato No Ok Temevo Vabbè Riportiamo un attimo In farm Questo va Sicuramente Poi un utilizzo Lo troviamo Senza ombra di dubbio Beh potrei fare una cosa Raga Teoricamente Magari c'è qualche Missioncina Una Missioncina Fertilizzante Paga bene Accetta Terreno 17 Dai Raga Utilizziamo i landini Per fertilizzare Beh questo lo sa Fa' di sicuro Almeno Guadagniamo un po' Di soldi No I soldi che ho investito L'unica cosa È che devo trovare Lo spargio C fertilizzante E mo non mi ricordo Dov'è Mo lo cerchiamo E andiamo a mettere Un po' di fertilizzante In giro Eccolo qua L'abbiamo già trovato Retromarcia Troppo poco fertilizzante Facciamo il pieno qua Terreno 17 Anche se ci metto L'operaio Va benissimo Di guadagnare Si guadagna Alla svelta Col fertilizzante Alla fertilizzante Alla fertilizzante A posto Facciamo il Beh spendiamo Tutto quello Che posso spendere Ok Terreno 17 Ok L'ho visto È praticamente Ovviamente Attaccato al mio Terreno 16 Quindi andiamo A Andiamo a lavorare Andiamo a lavorare A sto terreno Allora Terreno 17 Dai Non ho molto tempo Ancora devono arrivare I soldi dell'orzo Non ha ancora venduto L'operaio Quindi terreno 17 E cominciamo a lavorare Questo Ecco Mi si è già bloccato Ah cavolo Ho dimenticato Le gomme strette Ma non importa Perché il raccolto Quando è ancora Da poco cresciuto Non si distrugge Quindi va bene Anche così Va bene anche con le gomme larche Allora raga E Si è bloccato qualcuno Si è bloccato Ah no Tutto a posto Ok Sta andando a vendere Pensavo Peggio Quindi vabbè Ormai che siamo qua Raga Dobbiamo assolutamente Vendere Questa paglia Perché giustamente Ho bisogno Di venderla E di guadagnare Un po' di soldi Ah Questo Questa cippatrice L'ho comprata in live È mia È nostra La cippatrice Ho già venduto Un po' di cippato Allora Vendiamo questa paglia Vendiamo questa paglia Arrivano un po' di spicci 5.000 euro Restituiamo un po' di debito Buono C'è ancora un po' dentro Allora Rimandiamolo sul campo 22 Campo 22 Vai Allora Eccolo qua Che arriva Nel ranch Devo mandare questo Anche sul campo 22 Campo 22 Scarichiamo l'orzo Ma finalmente Arrivano un po' di soldini Magari riusciamo così A ripagarci completamente I landini 40.000 euro 50.000 euro Lisci lisci Restituiamo tutto il debito Bene Debito non ne ho più E c'ho anche 19.000 euro Di avanzo Ottimo Allora Questo qui Per ora Gli spegniamo il motore Ah Perfetto 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 Contratto sul campo 17 Ragazzi Finito Raccogliere Campo 18 Accetta contratto Allora Campo 18 E' già questo qua dietro Guarda Meglio di così Ah Qui non ho le gomme strette Ma tanto l'operaio Non distrugge niente Vai operaio Facciamo anche il campo 18 Intanto Nick è qua Che se fa sta paglia Che purtroppo Nessun altro La può fare Mi tocca per forza A me raccoglierla Gli operai Non la raccoglieranno mai A meno che Non metta il course play Ma Boh Ultimamente Mi stava solo Da problemi Il course play Quindi non l'ho più riprovato Ok Dai Sto scaricando Ancora un po Intanto Ragazzi Sapete che vi dico Mi faccio un alberello Ehm Perché no Mi serve un trattore Per buttare giù Un alberello Facciamo così Mi faccio un po Di cippato Va Intanto Perché fa sempre La stessa cosa Scoccia No Quindi Ci facciamo un attimino Un po Di cippato Lo vendiamo direttamente Niente di che Una cosa rapida Una cosa rapida 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 Ci mettiamo qua E buttiamo giù Due alberelli Così Beh Proprio sul trattore Ovviamente Questo sicuramente Più tosco Ok Non c'è dubbio Beh Questo è più leggero Dai così Ok Ok Bene A posto Spengiamo il motore Per ora Ok E sto legno Qua Ma da quanto tempo È qua sta legna Non l'avevo neanche vista Contratto sul 18 Finito Ok Campo 15 Accetta contratto Campo Questo è già arrivato Campo 15 E mo lo mandi Ah qua Vai Dietro l'angolo Pure lui Allora Vendi Dunque 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 Ma che fa Basta Campo 15 Mettiamo qua Fertilizzo Ho detto Fertilizzo Come Campo Non è qua Campo 15 Fertilizzo Ok Campo 15 Perfetto Allora Carichiamo quindi Ragazzi Questa legna La portiamo vicino Alla cippatrice La sfruttiamo un po' Anche perché Mi è costato un bel po' di soldi Quindi Facciamo anche un po' Di cippato Con questa legna Così la togliamo Dalle scatole A meno Cambiamo un po' E facciamo un po' Di cippato No Direi che ne vale la pena Allora Accendi Ok Così va molto meglio Vai No 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 Porca miseria Oh non riesco a tenere In mano Sto i tronchi Prendi 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 Ragazzi arrivano altri soldi Perfetto ragazzi Almeno Abbiamo venduto Anche un po' Di cippato Abbiamo fatto Non lo so Un 5 6.000 euro Oh scusi Ormai sul 22 Abbiamo finito C'è da finire Con la paglia C'è da seminare Forza Siamo quasi Dai che completiamo Sta missione Eccola la Contratto finito Comincia ad apparire Anche l'erbaccia Fertilizzazione Del campo Numero 24 Accetta Vediamo se per caso Ho il terreno 24 Eccolo la Terreno 24 Ci abbiamo pure A lui Va bene Direi ragazzi Che quindi Andiamo un attimo A completare Qui finalmente Sul 22 Andiamo a vendere Questo E basta Almeno per quanto riguarda La vendita Cominciamo a esserci Apri il tubo Compa E scarica A posto Quindi Ranch Dietro l'angolo Ci andiamo immediatamente Vai Continua 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 Allora Arriviamo a 75 mila Circa No Allora Eccoci qua Non è questo Il ranch Certo lui E no Non dovrei sbagliare No Ho detto una fesseria Lui Il ranch Ok Allora Scaricamo Dai E va bene così Arrivano altri soldi Ah devo spegnere questo Ovviamente Che se no Costa Diciamo 77 mila euro Dai I landini Non l'abbiamo utilizzato Ancora Granché Ma sicuramente Beh lo utilizzeremo Senza ombra di dubbio Per pulire gli animali Con la Con la Come cavolo si chiama Lì no Con la penna E tutte ste belle cose No I landini ovviamente Lo utilizzeremo ancora Qui secondo me Ci stanno patate Credo Non ne so sicuro Ma credo di sì Penso che in sto terreno Ci stanno le patate Vediamo Patate Difatti Buono Allora ragazzi Quindi Che vi devo dire Il tempo vola Direi che per il momento Ci possiamo anche fermare qua C'è sempre qualcosa da fare Però purtroppo Il tempo vola via Spero tanto che questo acquisto Vi piaccia Ma penso di sì Perché me l'avete detto voi Di comprarlo E quindi raga Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se questo video vi è piaciuto Commentate Iscrivetevi Vi ricordo che in descrizione Trovate un link Che vi permette di comprare Farming Simulator 19 Scontato per PC E Xbox One Ragazzi Concludo qua Ci becchiamo presto Ciao alla prossima Ciao a솔 Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti